An agrigento al polo espositivo del Museo Diocesano nella chiesa San Lorenzo, ex purgatorio, inaugurato un percorso mostra su Santa Rosalia. Rosalia, culto e devozione nell'agrigentino. In questo quattrocentesimo anniversario che sta celebrando la diocesi di Palermo per il rinvenimento delle ossa, che è anche il nostro quattrocentesimo anniversario del rinvenimento della grotta avvenuta nello stesso anno del rinvenimento delle ossa, proponiamo un percorso attraverso le opere della nostra diocesi che mai hanno lasciato le chiese da Santo Stefano di Cusquina, Bivona, Racalmuto, Aragona, Santa Margherita di Belice, Sant'Angelo Muxaro e così tante altre che in itinere arriveranno all'interno della mostra qui a San Lorenzo, che definiamo una mostra dinamica, perché ciò che è esposto sono oggetti di culto e quindi per Santa Rosalia dovranno ritornare a fungere da elementi di culto e poi dovranno ritornare nuovamente per la mostra. È un'occasione che diamo alla città, siamo nella celebrazione del MAB, un'attività che la diocesi, insieme alla conferenza episcopale italiana, con un piccolo contributo dell'otto per mille ogni anno propone, MAB, museo, archivi e biblioteca, progetto culturale sulla riscoperta di Santa Rosalia. Opere artistiche, opere librarie, opere archivistiche, documentazione storica e la ricostruzione che è stata fatta è veramente importante, dà una lettura di quello che è la devozione e il culto di questa santa che è tanto amata dai siciliani e anche nella nostra diocesi. Abbiamo scelto il polo culturale San Lorenzo che è il polo espositivo del museo diocesano, il MAB che di solito facevamo solo in cattedrale del museo l'abbiamo trasferito qui al centro della città. Ci prepariamo a diventare capitale della cultura, noi facciamo cultura attraverso tutto il patrimonio che abbiamo sempre, quindi anche questa si inserisce per far capire come questo spazio, come questo luogo, come la diocesi contribuisce e può contribuire a dare sviluppo al territorio. Ripeto, le opere vengono da tante parti della nostra diocesi e sarà bello andare a visitare quei posti che richiamano le chiese di origine e i comuni di appartenenza. Ci sono quelli che hanno un valore naturalmente storico, artistico più importante, però ogni oggetto di culto, anche la statua più semplice, racconta qualcosa di più grande dal valore economico, storico, artistico, che è il valore spirituale, cultuale, devozionale della gente che davanti a quell'immagine ha pregato, ha presentato speranze, richieste. Questo è il grande valore aggiunto, sono oggetti, elementi per il culto. Storicamente è forte il legame che ci lega alla Sanduzza Palermitana e appunto perché il legame è forte noi l'abbiamo inserito in un'iniziativa che ha un respiro nazionale, ovvero il MAB, un'iniziativa promossa dalla Converenza Episcopale per l'esattezza dell'Ufficio dei Beni Culturali che vuole, in sinergia tra museo, archivi e biblioteche, individuare un tema che possa essere sviluppato attraverso le nostre risorse culturali, nelle loro sfaccettature. Quindi noi abbiamo scelto il tema di Santa Rosaria perché coinvolge quasi tutta la nostra diocesi e attraverso quelle che sono le testimonianze artistiche, quelle che sono le tradizioni culturali, quindi unire il patrimonio materiale a quello immateriale, abbiamo cercato di restituire quelle che sono le testimonianze più unitarie di questo culto.